SIGLA Ma perché voi stai qui? Qui ci sono solo morti. Questo monte è maledetto da Dio e dagli uomini. L'ombra del monte ci sta seppellendo. Dobbiamo andare via. Andate. Io resto qui. Mia figlia si è volta qui. Non lo lascio. C'è chi non vede il sole. Stolto chi non lo conosce. Eva! No! 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 Sì